Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, oggi siamo qui con un pack opening speciale natalizio e vediamo subito cosa ci riserva il primo pacchetto Regalo, un giocatore francese ed ecco Steel, portiere della Ligan, Icardi, non male, Carol, Azu, davvero molto veloce Ma non sembra esserci qualche altro giocatore davvero molto interessante, quindi questo pack opening inizia subito bene, passiamo al secondo pacchetto gratis Secondo pacchetto su questo account, scrivetemi magari nei commenti cosa avete trovato, qui invece io trovo Rodriguez, Svizzero del Wolfsburg, Krikowiak, Luis Adriano, giocatore del Milan Anche se ho sentito molti che hanno avuto molta fortuna, altro account, altri pacchetti gratis, vediamo cosa ci riservano Giocatore Starridge, questo è davvero un ottimo giocatore, 83 come valutazione, poi troviamo Traore e nient'altro Comunque potremmo trovare qualche if davvero molto interessante, qui il gettone draft, davvero molto buono perché possiamo disputare un draft o offline o online e guadagnare davvero tanti credit Vediamo che cosa ci dà il giocatore dell'Inter Andanovic, ottimo portiere anche Diego Lopez del Milan Mentre non ci dovrebbe essere qualche altra sorpresa speciale, infatti non c'è Il giocatore croato del Barcellona, ottimo qui, Rakitic, anche Trap, portiere del PSG, però non c'è nient'altro, quindi conserviamo tutto e proseguiamo Secondo pacchetto su questo account principale, vediamo che cosa ci riserva, come al solito non abbiamo trovato dei giocatori assurdi Qui però troviamo Falcao e Giagelka, naturalmente speriamo di trovare qualche top player su questo account, così potremmo utilizzarlo magari per qualche squadra, vediamo Altro pacchetto, come al solito non stiamo avendo molta fortuna, Diego Costa, e questo è il migliore giocatore trovato fino adesso Diego Costa, giocatore del Chelsea, ottimo attaccante che sicuramente conserviamo Tantissimi pacchetti aperti, pochi giocatori di ottima qualità, vediamo cosa ci riserva questo pacchetto Dedè, non era niente male negli scorsi FIFA, comunque conserviamo tutto e andiamo avanti con questo pack opening Eccoci più o meno agli ultimi due pacchetti, vediamo che cosa troviamo, speriamo qualcosa di buono da tenere Nonostante non abbiamo avuto molta fortuna, Bastian Feinsteiger, 86 come valutazione, un po' lento, però resta comunque Un ottimo giocatore della Barclays, un giocatore del Barcellona spagnolo e nient'altro Quindi andiamo con l'ultimo pacchetto, ultimo pacchetto di questo pack opening natalizio Che non è stato niente male, però speravo molto meglio per questi pacchetti speciali, troviamo Ivanovic Quindi ragazzi, io spero che questo mio pack opening vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video